Siamo ormai da un po' di tempo all'interno della Quarta Guerra Mondiale, così come l'ha definita Costanzo Preve in un suo importante saggio, la quale Quarta Guerra Mondiale si caratterizza per essere la guerra che la potenza uscita vincitrice dalla Terza Guerra Mondiale, cioè dalla Guerra Fredda, ha dichiarato a tutto il mondo che ancora resiste al suo dominio e alla sua volontà di imporre un dominio monopolare, in grado cioè di annullare tutti i poli che resistono a questo dominio. Ora, all'interno di questa Quarta Guerra Mondiale, con cui gli Stati Uniti d'America, sempre con l'ipocrita formula dell'interventismo umanitario, del bombardamento etico e dell'embargo terapeutico, invadono e bombardano tutti i popoli che resistono eroicamente al suo dominio, in questo orizzonte si spiegano anche due fenomeni apparentemente difficili da comprendere, ma in realtà semplicissimi da decifrare nella loro logica interna alla Quarta Guerra Mondiale, che sono i fenomeni della primavera araba e delle cosiddette rivoluzioni colorate. Partiamo dalla primavera araba. La primavera araba è consistita, sia pure con differenti differenziazioni decisive a seconda del paese in questione, la Tunisia non è l'Egitto e non è la Libia. Ad ogni modo, nella sua logica generale di sviluppo, la primavera araba è consistita in un maestoso processo contro-rivoluzionario con cui alcuni paesi arabi sono passati sotto il dominio della mondializzazione capitalistica, favoriti da rivoluzioni gestite apparentemente dal popolo, ma in realtà artatamente pilotate dalla longa manus statunitense. Cioè appunto quelle forme di nazionalismo arabo, si pensi al nazirismo egiziano o al gheddafismo libico, che un tempo tramite la dittatura militare o comunque tramite le forze militari cercavano l'accesso diretto al capitalismo e al rapporto con le oligarchie finanziarie, oggi hanno preso a cercare questo rapporto senza più la mediazione dei nazionalismi e delle giunte militari, ma in maniera diretta. Cioè appunto le rivoluzioni colorate sono servite non certo a portare la libertà a questi popoli, ma a favorire il loro ingresso, armi e bagagli nel processo della mondializzazione capitalistica. Per cui appunto non si tratta tanto, con buona pace di Alain Badiou, di un risveglio della storia, ma si tratta semmai, con la sintassi gramsciana, di un ristagno della storia. Cioè un ristagno della storia post-1989 che tende ovunque a produrre sempre lo stesso scenario, che è quello dell'invasione, ripeto, del mondo da parte della forma merce capitalistica guidata dalla potenza politica statunitense, che è il modo in cui sul piano politico opera l'invasione del mondo da parte della forma merce. La primavera araba è nella sua essenza questo fenomeno. Non bisogna fare concessioni al politicamente corretto, né bisogna cadere nell'illusione che ogni qualvolta il popolo scende in piazza sia una rivoluzione. La storia ci insegna che la Vandea, ad esempio, o il popolo a Napoli nel 1799 non erano per nulla rivoluzionari, erano anzi fenomeni contro-rivoluzionari. Come contro-rivoluzionario fu anche il movimento post-1989 con cui fu sbaraccato il sistema del gigante sovietico, ingloriosamente crollato e rimasto sepolto sotto le macerie del muro di Berlino. Potremmo utilizzare questa analogia che è euristicamente feconda, cioè le rivoluzioni arabe sono l'equivalente dell'89 sovietico, cioè appunto un grandioso processo contro-rivoluzionario in cui a uscire il vincitore è il capitale, è la libertà liberale, cioè la libertà che tutto riduce a libera circolazione dello scambio e degli uomini ridotti a merci circolanti sul mercato. Questo è nella sua essenza la logica di sviluppo della primavera araba, non a caso encomiata, glorificata e santificata dal circo mediatico e dalla fabbrica dei consensi televisiva, la quale appunto ha presentato queste rivoluzioni come se fossero il trionfo della libertà, sempre tacendo che erano invece il luogo dell'adesione irriflessa alla mondializzazione capitalistica di tipo neoliberale. Per quel che riguarda invece, brevemente, le rivoluzioni colorate, con questa espressione si deve alludere, sempre nel quadro di questa Quarta Guerra Mondiale, oggi in corso, al fatto che tutta una serie di paesi, soprattutto quelli orbitanti intorno alla ex Unione Sovietica, si pensi all'Ucraina ad esempio, sono paesi che gli Stati Uniti d'America devono inglobare nel loro sistema globalitario, devono inglobare nel loro sistema di ordine mondiale e lo fanno abbattendo di volta in volta il singolo dittatore di turno, il singolo politico che è al potere in quei paesi e lo fanno in forme di manipolazione delle coscienze e di gestione delle rivoluzioni in quei paesi, addomesticando il popolo e progettando, potremmo dire, dei rovesciamenti dei governi legittimi tramite sommosse apparentemente spontanee e autonome del popolo, in realtà gestite millimetricamente dagli Stati Uniti d'America, che devono rovesciare i governi legittimi per imporre governi fantoccio, filoatlantisti e servi del dominio capitalistico di tipo americano. È quello che sta accadendo in Ucraina ed è quello che è accaduto in altrettanti stati e staterelli dell'ex Unione Sovietica. L'obiettivo degli Stati Uniti è appunto quello di vincere ogni resistenza al suo dominio e quindi abbattere le forme politiche non piegate all'ordo capitalistico. Ma poi soprattutto in questo frangente, 2014, l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di accerchiare la grande potenza russa di Putin, che è uno di quegli stati che ancora resistono. È uno di quegli stati che ancora resistono al dominio monopolare del mondo statunitense e che quindi gli Stati Uniti hanno come obiettivo primario quello di distruggerlo, imponendo anche lì il proprio dominio. Per questo stanno accerchiando la Russia di Putin, presentando Putin come un terribile dittatore da abbattere e in questo modo preparando tramite l'addomesticamento dell'opinione pubblica e l'utilizzo della manipolazione organizzata la coscienza occidentale al bombardamento che sarà prossimo per la Russia, a meno che essa non continui a fare, come sta facendo, una resistenza eroica alle invasioni anzitutto simboliche, ideali da parte degli Stati Uniti. Questo è lo scenario della Quarta Guerra Mondiale ed è bene ricollocare all'interno di questa mappa tutti i micro-conflitti che dal 1989 ad oggi sono scoppiati con incredibile virulenza dopo la guerra fredda che era servita, se non altro, intanto a tenere aperta la pluralità, un mondo multipolare, ma poi anche a tenere congelati i conflitti reali che pur con alcuni punti caldi tipo la Corea o il Vietnam erano stati congelati dalla guerra fredda e che sono oggi riesplosi con inaudita virulenza nel mondo post 1989.